Ciao ragazzi e ragazze, mi devo alzare, ormai è un abituè che mi esprimo meglio, ormai lo sapete. Allora, quattro anni in naftalina me l'hai tenuto fagioli, quattro anni in naftalina. Quando tu dicevi, è una gioia, tu Max Allegri, è una gioia per gli occhi vedere questo calciatore. Quattro anni fa l'hai detto, quattro anni fa. Metterlo prima no, c'è uno che fa un gol del genere ragazzi, non può essere un caso, non può essere un caso. Poi si è spento perché, classico vizio allegriano, risultato acquisito, tutti così, tutti dietro la linea della palla, tutti in difesa, tutti in difesa. Come al solito, e se non era per quel palo, se non era per quel palo, qua si parlava di pareggio ragazzi. Di pareggio, di pareggio. Non che prima avessimo fatto qualcosa, però in quei 20 minuti, primo tempo non lo commento neanche ragazzi perché non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire nel primo tempo, ma nei primi 20 minuti qualcosina, 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 qualcosina si è visto. Me l'hai fatto pure piangere sto ragazzo, me l'hai fatto. Me l'hai fatto piangere, me l'hai fatto. Sì che si è commosso, ma questo è un pianto liberatorio ragazzi, perché questo ragazzo merita più spazio. Merita più spazio. La stessa cosa vale per questo Ealing Junior, che ha toccato solamente praticamente un pallone, ma intanto ha fatto l'assist per il gol. Questi giovani meritano più spazio. Ma non illudiamoci gente, non illudiamoci perché questo li sta facendo giocare, perché non c'è più nessuno ragazzi. Sono tutti spaccati e quindi gioco forza, soprattutto nei cambi, è costretto a buttare dentro qualche giovane, perché ragazzi qua non c'è più nessuno. Sono tutti rotti sono, tutti rotti e sugli infortuni non mi esprimo neanche più ragazzi. Perché non ho più voglia dire sempre le stesse cose, tanto lo sappiamo che con Allegri si spaccano tutti. Non c'è un cazzo da fare, non c'è nulla da fare. Comunque a livello di gioco non ho visto nessun progresso ragazzi. L'unica nota positiva è che finalmente si è visto qualche giovane in campo. E questo è la speranza. Se sto cornuto, se sto disgraziato, li fa giocare piano piano, ultimamente lo sta facendo, c'è qualche speranza. Perché hanno voglia, questi ragazzi hanno grinta, hanno cattiveria. C'è qualche speranza per risalire la china, gente. Qualche speranzucola c'è. Volevo dire un'altra cosa, se mi viene in mente, porca puttana ce l'ho qua sulla punta della lingua, spero di non essermi dimenticato. Ah, questo volevo dire. Comunque, nello schifo più totale, nello schifo più totale, raggiungiamo la terza vittoria consecutiva in campionato. E questo ragazzi, almeno per il quarto posto, può essere un ottimo segnale. Non si può tifare contro la nostra squadra del cuore, ragazzi. Anch'io Allegri, credetemi, non lo posso più vedere. Spero, non Conte bis. Io ci spero ragazzi, ci spero. Non amo Conte, dopo quello che ha fatto, per come se n'è andato nel 2014, però ragazzi a questo punto penso che sia l'uomo giusto per ripartire. Però bisogna arrivare quarti, perché la Champions è troppo importante per questa squadra, ragazzi. Sperando che poi, anche arrivando quarti e non vincendo nessun trofeo, cosa altamente probabile, si cambi, si cambi comunque guida tecnica. Quindi, terza vittoria consecutiva in campionato e questo può essere un buon segnale, ragazzi. Per il resto c'è veramente poco da aggiungere, perché il gioco è sempre lo stesso, ragazzi. Questa stagione sarà difficile, lo sappiamo, ragazzi, inutile che ci ripetiamo. Questo sarà un anno duro, però bisogna per forza arrivare quarti, ragazzi, perché è veramente fondamentale. Like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, delle notifiche su tutte e sempre fino all'iscrizione. Forza Juve! Ciao, Betty! Ciao, Betty!